Salve ragazzi, oggi nuovo video come potete vedere insomma E oggi andremo a parlare delle 5 migliori app per iPad Sì, avete capito bene, oggi parleremo delle 5 migliori app per iPad Mi sono messo qui un po' di fianco alla telecamera in modo che qui potete vedere lo schermo del mio iPad Che comparirà qui tra 3, 2, 1, boom Ci vediamo subito con questa schermata che ho creato apposta per questo video Infatti non ci sono 5 applicazioni ma ce ne sono 6 Infatti una è bonus anche se è una specie di consiglio Partiamo con Notion, infatti quest'ultima è la miglior app per prendere appunti Per organizzare la vostra vita quotidiana, organizzare le vostre idee E scrivere anche dei normali testi e pagine Come potete vedere qui ho la mia home dove ho una sezione, quella a sinistra di YouTube Mentre quella a destra, la persona che ancora deve essere riempita da di mio tempo Ancora devo riempirla ovviamente Nella sezione di YouTube bisogna vedere materiale e descrizione dei video Che bene o male è sempre la stessa, cambio qualcosa ma bene o male è quella lì E per prendere le idee dei video, che non labbro se no vi spoilererei i prossimi video Comunque scrivo tutti i miei idee, scrivo tutti i testi dei miei video In questo modo ho tutto quanto organizzato e non mi perdo le parole per strada La cosa bella di questa applicazione è che si possono, come potete vedere, pagine con icone e cover di sfondo In questo modo ho una cover blu e una casa, insomma, come icona E mentre vedete i video ho messo una patina per identificare quella pagina Ma posso creare anche database, tabelle, qualsiasi cosa, anche immagini Possiamo caricare delle immagini all'interno delle varie pagine Ma in questo caso non le trovo l'utilità Quindi per il momento mi riesco solamente a scrivere le mie idee Estando in tema appunti, parliamo di un'altra applicazione che uso di più in assoluto Durante la mia vita quotidiana, durante la vita scolastica Infatti è GoodNotes GoodNotes infatti è un'applicazione per prendere appunti con Apple Pencil È davvero molto completa, davvero molto organizzata, sincronizzata con il cloud L'unico difetto, a mio parere, è che costa 7,99€ Non è tantissimo, io li ho spesi tranquillamente perché appunto mi ci trovo molto bene E non tornare indietro Prima di questo utilizzavo l'applicazione di note di Eppola Questa qui è molto completa ma presentava alcune funzioni che a me servivano E che appunto non c'erano sull'applicazione di note Continuando con GoodNotes abbiamo, come potete vedere qui, varie cartelle In basso invece abbiamo la sezione documenti, ricerca per cercare varie parole All'interno proprio dei titoli oppure parola che abbiamo scritto con Apple Pencil All'interno delle nostre appunti Condiviso, possiamo condividere le varie note nel cloud o comunque con altre persone Possiamo vedere le modifiche in tempo reale delle varie persone E preferite invece, se vogliamo mettere delle pagine come preferite Andare a consultare in modo molto più veloce Tornando alle sezioni documenti, io ho varie cartelle Andando ad esempio in quella di fisica Qui potete vedere che ho varie cartelle Varie appunti In una di queste è presente un argomento, comunque esercizio che ho svolto Qui in alto ci sono utilizzati vari strumenti In particolare il strumento penna che può essere stilografica a sfera o a pennello Stilografica è quella che si regola in base alla pressione Mentre quella a sfera è quella che ha un tratto più unico Mentre il pennello ha un tratto un po' più solido A fianco abbiamo subito la gomma Che può essere di tre dimensioni Come potete vedere più piccola, media e grande Abbiamo la gomma di precisione La gomma standard, la gomma a tratti In particolare la gomma di precisione È una gomma che va proprio ad essere molto precisa Come possiamo vedere nel filo e per segno La gomma a tratti invece La gomma standard diciamo Va a eliminare tratti, segmenti Comunque non è precisissima Io raramente la sconsiglio da utilizzare In particolare uso maggiormente la gomma a tratti Che è quella appunto che va ad eliminare un tratto intero Ed è molto più efficace, molto più veloce E non lascia appunto segni all'interno delle vostre note Una funzione molto bella che ha questa applicazione È che ha delle sezioni automatiche della gomma Infatti se io sto scrivendo E poi voglio cancellare questo ultimo tratto Basta faccio doppio clicca su Apple Pencil Questa è la seconda generazione Se no clicco la gomma Cancello e poi appena lascio Mi si ritorna di nuovo alla penna Funzione molto molto comoda A fianco abbiamo invece l'evidenziatore Che può fare linee dritte se impostato Abbiamo la sezione invece forme Che ci allinea le forme, segmenti Faccio un cerchio Fa le stelline, è molto bello Non solo per questo Non riesco a farle Andiamo bene, proprio bene Qui ci sono anche veri Vedete colore di riempimento per le varie forme Va a fare questo colore di riempimento Va a premi per agganciare In particolare va ad agganciarsi ad altre forme Va a chiudere i vari tratti E così via Insomma è ricco di funzioni Io ve la consiglio Se avete un iPad e un Apple Pencil E dovete apprendere punti appunto a scuola Su metto l'asso molto importante Se dovete selezionare parti di nota Per dover spostare Copiare o duplicare E o anche eliminare In questo caso i sticker Che possono essere dei disegni Che avete fatto già in precedenza In questo caso io per farli prima Mi sono salvato dei assi cartesiani Che posso ingrandire E fare come mi pare Quindi senza che ogni volta Mi metto a farli Li premo E mi compaiono In automatico Si possono aggiungere immagini Testo E un strumento laser Se fate una presentazione E volete indicare Tutto quello che state ripetendo Come ho detto anche prima Abbiamo la variante delle note Che è una variante gratis Molto affidabile anche questa Anche questa sincronizzata con il cloud Ma se volete qualcosa in più Personalmente Qualcosa in più organizzato Vi consiglio GoodNot Passiamo invece ad un'applicazione Ora molto utile Se volete allenarvi All'interno della vostra casa In questa qua era molto utile Nel periodo di quarantena Ma comunque Se non volete andare in palestra E volete fare esercizi comodi A casa Anche in un semplice Quarto due ore A mezz'ora Vi consiglio L'applicazione Night Training Purtroppo non è ottimizzata Per la grandezza dell'iPad Ma una volta che avviate l'allenamento Questa si ingrandirà a tutto schermo Ci sono vari allenamenti Per ogni tipo di persona Per ogni tipo di fascia muscolare Infatti organizzata in gruppo muscolare Per la parte alta Parte bassa Ci sono anche lezioni Con attrezzature di base O comunque Se non siete dotati di queste attrezzature Anche se si A corpo libero Io ve la consiglio Ho provato per un po' di tempo E sinceramente Mi sono trovato davvero molto bene Però È un po' limitativa Dal punto di vista Della durata degli allenamenti Infatti Al massimo arrivano 45 minuti Per allenamenti Quelli molto lunghi Di base Si aggirano intorno Al quarto due ore A trenta minuti Molto importante È la calcolatrice In case un iPad Non è presente Purtroppo Apple Non ci fornirà mai Questa applicazione Ci ha degustato Dell'applicazione Meteo Come vedete Qui in basso Con l'ultimo aggiornamento Ad iPadOS 16 Ma purtroppo La calcolatrice Ancora no Comunque È un'applicazione Molto utile Molto avanzata Per la calcolatrice È la calcolatrice E abbiamo appunto La calcolatrice di base Come vedete Anche in basso Non mancano ovviamente Le pubblicità La calcolatrice scientifica Con tutti quanti I calcoli scientifici È anche molto precisa E abbiamo La fotocamera Se volete scansionare Però dovete pagare La azione premium E abbiamo anche la valuta Se dovete convertire In modo molto veloce I soldi E abbiamo anche L'ultima sezione Molto importante Molto molto utile Per le frazioni Se dovete varie operazioni Con le frazioni Qui abbiamo Vedete I vari due testellini E ci mette la frazione In questo modo Inoltre è anche molto bella Infatti In alto Nei temi Abbiamo vari temi Che possiamo utilizzare In particolare Che ne so Vogliamo un tema blu Utilizziamo un tema blu Molto bello anche questo Si adatta bene Al sfondo del mio iPad E vi devo dire Che mi trovo davvero Molto bene Questa applicazione Passando ora Alla nota L'abbiamo già vista prima Anzi Legata a Goodenots Passiamo ora A Lightroom Lightroom È l'ultima applicazione Non per importanza Ma comunque Quella che vi tento Di consigliarvi Se volete Editare foto Per Instagram Foto Anche in generale Che volete tenervi Io qui Ho preso tre foto A caso Dalla mia libreria In questo caso Abbiamo preso Questa foto Di questa meravigliosa Ferrari In questa Formula 1 E possiamo andare a regolare La luce Esposizione Contrasto Luci Ombre Neri Bianche E così via Il colore Possiamo anche fare Un mix di colore Andare a regolare La tonalità Dei vari colori Se premiamo Questo pulsante Qui Possiamo anche andare A regolare Le varie tonalità All'interno Dell'immagine Davvero Molto completa Dal punto di vista Della color correction Se volete Anche la versione Se volete Anche appunto Applicare Dei piccoli Dei piccoli Aggiustamenti Come il pennello Correttivo La maschera O comunque Altri filtri C'è la versione A pagamento Che è comunque Molto utile Io non l'ho acquistata Perché non la uso Tantissimo Ma comunque Se volete Sviluppare Delle foto Per Instagram Davvero In modo molto veloce Ed efficace Vi consiglio questa Spero che queste app Vi siano piaciute Spero che vi Ressero utile Per la vostra Positività All'interno Della vostra vita Quotidiana Da Alex è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ah dimenticavo Iscrivetevi al canale E attivate la campanella A voi non costa nulla Ma mi rendete molto felice Ciao Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo